Ciao a tutti, in questo video vi presenteremo un rarissimo esemplare di mini scimpanze lucertolone spinoso e come vedete qui sotto è una piccola cresta che serve per vedere cosa c'è di sotto delle piccole spine, non fanno male ma sono sempre spine, no questo non è un documentario ma è un video di magia mamma perché non è entrato ogni volta che siamo facendo un video